Ciao ragazze e benvenute in questo nuovo episodio di E' Tempo di Amare. Shingo, siamo finalmente arrivate alla fine della storia con lui perché oggi vedremo il finale felice. Io ovviamente non vedo l'ora di vedere come finirà la loro storia d'amore. Ovviamente il titolo è Per sempre, quindi insomma sicuramente sarà molto bello da vedere. Magari si sposeranno, staremo a vedere. Dopo qualche giorno che Iuta si è recato all'estero, io e Shingo andiamo al ristorante italiano dove siamo stati l'altra volta. Dopo la cena, mentre aspettiamo il dolce, Shingo mi passa una busta. Hmm, chissà cosa ci sarà in questa busta. E' una lettera da Iuta, è arrivato in ospedale. Davvero? La apro subito e la leggo. C'è scritto che Iuta ha cominciato le cure. Il trattamento è cominciato. Insieme alla lettera è incluso una foto di Iuta, che sembra stare bene, e Atayama. Iuta sembra in forma, meno male. Se non ti avesse incontrato, quel bambino non avrebbe avuto un futuro. Oh, quindi siamo delle eroine. Sei tu che hai creato il suo futuro. Ne sarei felice se fosse così. Sono contenta di averlo incontrato quel giorno. La prima volta che l'ho visto è stato quando ti ho portato il pranzo. Allora è stato grazie a me, certo. Ehi, ma sei appena detto che è stato per merito mio? Sto scherzando. Le tue azioni mi lasciano sempre a bocca aperta. Dopo che ti ho conosciuta, sono cambiato anch'io. Sono felice di averti incontrata. Shingo! Le sue parole mi imbarazzano, ma non posso fare a meno di sorridere. Ma sei sempre così imprudente che non posso toglierti gli occhi di dosso. Cosa stai dicendo? Perciò dovrò sempre stare al tuo fianco. Ora? E in futuro? Ok, qui c'è una proposta di matrimonio velata. Eh? Che cosa ha Shingo oggi? Shingo mi guarda fisso negli occhi, con espressione seria. Io faccio altrettanto. Keira, tu? No, ma Riazaki, cioè, ma perché, dico io, anche qui, nell'ultimo episodio? Ma con tutti i ristoranti che ci stanno. Ehi, Igarashi. Eh? Quando mi volto nella direzione della voce, Riazaki guarda verso di noi, sghignazzando. Riazaki? Eh già, vedi che bella sorpresa. Che coincidenza incontrarci qui. Anche io sono venuto a cena. Perché non mangiamo insieme? Per celebrare il successo dell'altra volta. Qualcosa mi dice che invece Shingo aveva qualcosa di molto importante da fare. Noi stiamo aspettando il dolce e poi torneremo a casa. Velatamente ti ha detto di no. Scusa, però ti ringrazio infinitamente per l'altra volta. È anche merito tuo se abbiamo potuto salvare Yuta. Sei una brava ragazza. Mi piaci. In che senso? Eh? Riazaki tira fuori un bigliettino da visita e una penna. E dopo averci scritto sopra qualcosa me lo passa? Il numero di telefono? Mi aveva già dato il suo biglietto. Che cosa c'è scritto? Ma poi davanti a Shingo, ma seriamente? Quando lo giro vedo scritto il suo numero di cellulare. Cioè, ci ha provato proprio spudoratamente. Allora, alla prossima. Se ti stanchi di Karashi, chiamami. Ma guarda questo che faccia tosta! Cosa? Shingo afferra il biglietto. Strappalo. Quando arrivo a casa, lo metto nel tritadocumenti. Mi fai paura. Alla prossima. Riazaki si allontana scuotendo la mano e si siede in un tavolo vicino. Quello. Si è seduto apposta vicino a noi. Su, Shingo. È arrivato il dolce. Mangiamo? Sì. Shingo, facendo attenzione a Riazaki, porta il dessert alla bocca. Dopo aver mangiato il dolce, bevo una tazza di tè e faccio un sospiro. Ma non è successo niente, un anello sorpresa nello champagne, cose, nulla. Che buono. Sì, usciamo se è finito. Eh? Potremmo rilassarci ancora un po'. No, lui non vedrà l'ora di andarsene. Andiamo. Vabbè. Shingo, un attimo! Dopo cena, Shingo si alza e paga il conto. Incalzata da lui, in fretta esco dal locale. Vabbè, la cena più veloce. Anche dopo essere tornati a casa, il suo amore non migliora e seduto sul divano tira un sospiro. Cioè, secondo me, gli è saltata la proposta di matrimonio. Perché dobbiamo sempre incontrarlo? Mi ha rovinato il giorno libero. Shingo tira fuori il bigliettino da visita di Riazaki dalla tasca. Ti ha anche dato il suo numero. Accidenti! E tu perché l'hai preso? Ma ora ti arrabbi con me. Ah, lo vado subito a mettere nel trito a documenti. Vabbè, vai. Dopo aver detto così, si alza. Sembra stranamente arrabbiato. Così con timore provo a chiederglielo. Sei forse geloso? Perché dovrei? Perché sei di cattivo amore da quando lo abbiamo incontrato. Questo... Shingo, un po' rossa in faccia, guarda da un'altra parte. Ti sei arrabbiato perché Riazaki mi ha invitata fuori? Stai zitta. Io torno in camera e dormo. Ma così sta finendo la serata? Per un incontro? Dandomi le spalle, sale di sopra. Shingo! Gli corriamo dietro, almeno. Lo seguo fino in camera sua. Aspetta, Shingo! Ascoltami! Che c'è? Ma perché sei così arrabbiato? Non hai bisogno di essere geloso. Per me ci sei solo tu. Non mi interessano gli altri. Perciò stai tranquillo. Perché non parli? Che è successo? Quando, rivolto a lui, sorrido, improvvisamente mi spinge sul letto. Ok, adesso non è più di brutto amore, mi sa. Eh? Che cosa c'è? Questo è scontato. Lo so che non sei il tipo che andrebbe da un altro così facilmente. E allora perché? Anche se non c'è bisogno, mi sento geloso lo stesso. Mi piaci fino a questo punto. Che carino. Scossa dalle sue parole, quando lo guardo, lui mi basa. Dopo che le nostre labbra si separano, mi viene da sorridere. Sei carino ad essere geloso. Basta parlarne. Eh? Per colpa di Riazaki, tu ti prendi gioco di me. E anche il mio piano è andato in fumo. Lo sapevo che avevo un piano. Che piano? Eh... Shingo mi guarda in difficoltà. Inclino il collo e mi rivolgo a lui ancora una volta. Shingo? Cosa c'è? A dire il vero, volevo dirtelo in un altro modo. Perciò oggi ho prenotato un posto vicino alla finestra. Volevo dirtelo dopo aver mangiato il dolce. Ma è arrivato Riazaki. Se continui a parlare di lui, tornerai ad essere di cattivo umore. Dimenticalo. Sì, hai ragione. Potrei rimandare alla prossima volta, ma ho deciso che te ne parlerò oggi. Ma se non ti va l'idea, te lo dirò la prossima volta. Rivedrò il piano e penserò ai preparativi. Vabbè, basta, diccelo. Così la facciamo finita. Di fronte alla sua indecisione, perdo la pazienza, ovviamente. Spettila con i preamboli. Muoviti a dirlo. Cosa c'è? Shingo si allontana da me e tira fuori qualcosa all'anello. Eh? Questo? Shingo tira fuori una scatolina magica. La apre e mi mostra l'anello all'interno. Nella felicità e nel dolore, nella salute e nella malattia. Che fai? In ricchezza e in povertà, sì. Voglio rimanere con te e in qualsiasi situazione. Sposami. Prendo le sue mani che stanno tremando. Sì, lo farò. Bellissima sta proposta di matrimonio. Ragazze, non ho parole. Eh? In questa stanza? Sì, sposiamoci qui adesso, davanti alla scrivania. Non ti importa che non sia un ristorante, un luogo in cui si vede il tramonto o qualsiasi altro posto speciale? Non importa dove. Importa chi e i suoi sentimenti. Oh. Quando Shingo sorride sollevato, alzo la mia mano e indosso l'anello. Grazie. Quando l'hai comprato? Sono così felice. Non posso trattenere la felicità nel vedere brillare l'anello di fidanzamento sulla mia mano sinistra. Avevo già deciso di farti la proposta oggi. Hai espresso più che a sufficienza i tuoi sentimenti goffi. Goffi? La tua proposta è troppo lunga. Nella felicità e nel dolore. Non c'è bisogno di ripeterlo. Nella salute. E poi... Basta! Mentre continuo a prenderlo in giro, Shingo mi stringe a sé e copre le mie labbra con le sue. Lo lascio fare. Shingo mi spinge sul letto. Shingo! Ho dovuto farti stare zitta. Non c'è bisogno di ripetere la proposta più di una volta. Allora non lo dirai mai più? Ti dispiace? Mi hai resa così felice che mi sono sentita triste al pensiero. Il matrimonio avviene una sola volta nella vita. Di conseguenza anche la proposta. In teoria dovrebbe essere così in pratica, purtroppo. Ma in cambio posso dirti queste parole quante volte vorrai. Ti amo, Keira. Mentre mi sussurra queste parole dolci, le sue labbra sfiorano il mio orecchio. Oh! Che cosa c'è? Mi hai sfiorata con le tue labbra. Davvero? Che voce carina! Eh? La prossima volta... Shingo mi prende il viso e appoggia le sue labbra sull'angolo della bocca. Eh? Pensavi che ti avrei baciata? Come sei cattivo! Quando imbronciata faccio per girarmi dall'altra parte, Shingo mi blocca baciandomi. C'è l'illustrazione finalmente! Wow! Ma wow! Ma dov'è la mano di Shingo? Bella questa illustrazione, mi piace tanto. Mi bacia più e più volte. La mia faccia diventa sempre più rossa. Le mie guance sono calde per via dei suoi baci. Mi sento mancare. Le sue mani scivolano dentro i miei vestiti e toccano il mio corpo accaldato dai baci. Mmm, Shingo... Il tuo corpo è così caldo, perché ti ho baciato? Non dirlo! Shingo, lasciami andare. Quando per la vergogna faccio per allontanarlo, mi blocca il braccio. No, non ti lascio. Nessuno si metterà più in mezzo. Sei solo mia. Oh! Sì, stammi sempre vicino. Non lasciarmi andare. Anche tu non lasciarmi. Non lo farei mai. Perché mi piaci troppo. Anche tu ti renderò felice. Shingo prende la mia mano e pace il lito in cui hai infilato l'anello. Se sono con te, sarò sempre felice. Ok, finito. Ah no, c'è di nuovo un'illustrazione! Grazie! Non dimenticherò mai questo giorno. I nostri sentimenti dureranno di sicuro per l'eternità. Wow, ma che bel finale! Vissero tutti felici e contenti. Adoro! Quindi, vabbè, non si è visto il matrimonio, ma è sottointeso che si sposeranno. Allora, che ne pensate di questo finale? A me è piaciuto molto. Adesso non ci resta che vedere quello normale, insomma, per capire le differenze che ci sono tra i due finali. Immagino che in quello normale non ci sarà la proposta di matrimonio. Non lo so, staremo a vedere. Lo giocherò la prossima volta, così, insomma, completeremo del tutto la storia con Shingo. E poi, finalmente, cominceremo l'ultimo personaggio, che è Ebaru. Alcune di voi mi hanno scritto che sono curiosa, insomma, ha 42 anni, lui. Ah, così grande! Comunque, siete curiosi di vedere la storia con lui, quindi, insomma, non vedo l'ora di cominciare. Anche lui, e vedere, insomma, come sarà rispetto agli altri personaggi. Quindi, aspetto, come sempre, di leggere i vostri commenti. Se avete apprezzato il gioco, lasciatemi un bel pollice in su. Vi ricordo di iscrivervi, e noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao! Ciao!